buongiorno buongiorno ciao ragazzi da elio dante e benvenuti nel mio canale ragazzi tempo fa avevo fatto una piccola recensione riguardo questo set di beat della parkside questo e questo e qualche mio iscritto mi ha chiesto a cosa serviva questo beat ragazzi sinceramente io quando ho fatto il video chiaramente avevo in programma di spiegare a cosa serviva determinato beat ma me ne sono completamente dimenticato e anche quando ho editato il video non mi sono reso conto di non averlo menzionato e quindi visto il messaggio da qualche mio iscritto oggi vi voglio aggiornare riguardo a tale beat se siete interessati potete mettermi benissimo mi piace quindi faccio partire la sigla e vi spiego semplicemente a cosa serve tale prodotto a dopo ragazzi allora ragazzi a cosa serve questo beat semplice avete presente questi occhielli ce ne sono di varie misure diciamo che il diametro più diventa grosso e più diventa difficoltoso usare questo semplicemente quando si fora il nostro muro per poi utilizzare questo occhiello questo ad esempio è chiuso ma ci sono anche quelli un po più aperti con questo beat inserito nel nostro trapano oppure cacciavite si congiunge in questa maniera abita il nostro gancio barra occhiello semplice mi dispiace non averlo spiegato prima quando avevo fatto vedere ai tempi questo set dove c'era inserito questo beat mea colpa mi sono assolutamente dimenticato di dare tale spiegazione nei beat solitamente non danno spiegazioni perché comunque sono facili da utilizzare e hanno la loro logica tranne su questo ragazzi spero di essere stato chiaro mea colpa per la dimenticanza se è stato utile ragazzi mettete un mi piace e per altre mille spiegazioni se ce li ho ci vediamo nel mio canale quindi l'iscrizione è gratuita e ragazzi iscrivetevi ciao ragazzi da edio dante ciao ciao ciao